Grazie, grazie per tutto quello che avete fatto fino ad oggi, grazie, a fine partita quel che sarà sarà perché lo sappiamo come è il calcio, tre sono i risultati, vi chiediamo solo una cosa, massimo impegno è lottare su ogni pallone, ogni palla, se vi manca il fiato, se vi manca la forza, guardate a noi, vi aiutiamo noi, noi con voi, voi con noi, fino alla fine. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie.